Più che un appello è un urlo di disperazione al Governo. Il Presidente dell'Unione delle Case di Riposo del Veneto, Roberto Volpe, ha scritto un appello al Governo perché il caro Bollette non solo sta mettendo in ginocchio le strutture 346 RSA per oltre 32.500 posti letto, ma rischia di far scoppiare un vero e proprio terremoto sociale con rincari insostenibili delle rette a carico delle famiglie. Abbiamo fatto una stima, sono circa 400 euro al mese per ospite, dai 12 ai 13 euro al giorno, a cui si assommano anche tutte le richieste di rinnovi che ci stanno occupando perché le lavanderie ci stanno comunicando aumenti, i panifici ci stanno comunicando aumenti, cioè di questo passo io non ho neanche la dimensione di quale potrebbe essere un reale aumento. La lettera è datata 22 agosto, già oggi il prezzo del gas è schizzato da 280 a 317 euro al megawattora e le stime del rincaro delle rette dovrebbero essere aggiornate in rialzo. La richiesta delle RSA è quella di essere trattate come le altre aziende ed essere inserite a pieno titolo nel decreto che andrà in discussione ai primi di settembre. Che vengano anche riconosciute le nostre strutture quei benefici che possono essere riconosciuti ad altre aziende, così non possiamo reggere. L'Italia non è un paese per giovani, conclude Volpe con amarezza, ma non lo è nemmeno per i vecchi. Ed il tema degli anziani e dell'assistenza, soprattutto ai non autosufficienti, è il grande assente in tutte le agende politiche. Quello che sono veramente sconvolto è che un paese, il secondo paese più vecchio al mondo, non ha natalità, un paese che nel 2050 avrà rispetto ai 4 milioni di anziani ultraottantenni, arriveremo a 8 milioni, nel dibattito politico lei non ha sentito una volta parlare del tema anziani.